La Col di Retti Lazio chiede alla Regione la convocazione urgente di un tavolo dedicato al prezzo del latte alla stalla. La richiesta arriva all'indomani dell'intesa raggiunta con la multinazionale Lactalis sul prezzo del latte a livello nazionale che prevede in tutto il nord per il prossimo trimestre un aumento di 2,1 centesimi al quale va aggiunto il centesimo garantito dal Ministero delle Politiche Agricole con aiuti straordinari dell'Unione Europea. Un accordo che, secondo l'ufficio studi della Col di Retti, porterà almeno 340 milioni di euro su base annua, in più nelle stalle italiane. Una boccata di ossigeno alle imprese che si trovano in un grave momento di difficoltà, ma, afferma il direttore di Col di Retti Lazio Aldo Mattia, ora ci sono le premesse negoziali necessarie per la definizione di contratti standard indicizzati ai cozzi di produzione sulla scia di quanto verificatosi nel nord, anche per il latte laziale. Gli industriali del nostro territorio non possono rimanere indifferenti alle conseguenze della nostra mobilitazione che dal febbraio scorso ha permesso di spostare i rapporti di forza dentro alla filiera, oltre che ottenere misure indirette a favore delle stalle italiane tramite l'abolizione dell'IMO e dell'IRAP contenuta nella legge di stabilità.